E' successo che sono arrivato stamattina per aprire il negozio e ho trovato che mancavano sei stufe del negozio, tutte le stufe a pellet e secondo me è stato un furto su commissione perché non hanno tolto niente altro che le stufe a pellet. Un furto su commissione, quello compiuto stanotte a Travettore di Rosà. I ladri hanno colpito il negozio di stufe e caminetti di Luigi Campagnaro. Il bottino ingente, le sei stufe rubate hanno un valore che si aggira intorno ai 20.000 euro. Abbiamo trovato la porta scassinata, sono rimasto male, però d'altra parte ormai era già successo, non potevo fare niente, ho chiamato le forze dell'ordine. Saranno pure venuti davanti la vetrina a scegliere le stufe da rubare, commenta con amarezza Luigi Campagnaro. I ladri infatti sono entrati nel negozio, hanno spostato ciò che non era di loro interesse e poi prelevato solamente le sei stufe. Niente altro, neppure i computer. La merce da rubare insomma è stata scelta accuratamente. Un duro colpo per questo imprenditore che da pochi mesi si è trasferito nel nuovo negozio di Travettore. C'è amarezza eh? Eh tanta, perché adesso siamo che in piena stagione, ci troviamo col nostro negozio appunto vendita abbastanza vuoto diciamo, cercheremo di rimpiazzare il più presto possibile, però insomma è un po' un disagio ecco.